salve signallos come si collega tranquillamente molto semplice ho semplicemente staccato dalla ricevente un canale qualsiasi in questo caso ho staccato il timone e l'ho messo a ponte semplicemente così come funziona basta avete già finito collegate la batteria scusate collegate la batteria il sistema già pronto e collegato in questo momento lui è già attivo il timone è ancora funzionante e signal loss è attivo in questo momento è in modalità e modo 1 quindi vuol dire che dopo un minuto di inattività della radio del trasmettitore signallos comincerà a lampeggiare e a suonare vi assicuro che sono 85 db veramente di potenti e lo stesso funziona quando la radio perde il segnale oppure la spegne mettiamo che il vostro modello è finito in una bella risaia o un bellissimo campo di mais basta che spegnete la radio e questo e dopo un minuto incomincerà a suonare e fin quando non ritroverà il segnale e non date il comando sul servo che avete collegato continuerà a suonare tra 30 secondi dovrebbe incominciare a suonare attendiamo per comodità se non volete montarlo su un canale che già utilizzato potete semplicemente collegarlo su un canale lui si ferma quindi se l'avete perso vi consiglio di spegnere la radio e cercarlo grazie